Ascom Vercelli Abbiamo anche intervistato il sindaco di Serravalle Sesia, Massimo Basso Mi aggancio alle belle parole del Presidente Ascom e ringrazio soprattutto Ascom che ha permesso la realizzazione di questo polo vaccinale, molto importante Oltre a quelli già presenti anche di recente inaugurazione adesso c'è anche a Serravalle Parliamo di una pandemia, di una crisi che entra in tutte le famiglie e minaccia tutti, nessuno escluso E questo è l'importante, avere la possibilità di vaccinarsi al di là di ogni credo a riguardo Quindi grazie trasversale a tutti coloro che ci hanno permesso questo Abbiamo intervistato il Presidente della Provincia di Vercelli, Eraldo Botta È molto importante vaccinarsi, vaccinarsi al più presto L'esempio sono i dati che quotidianamente escono Quindi oggi i positivi hanno un target molto basso come età Per cui funziona la vaccinazione, funziona anche nelle case di riposo Dove abbiamo visto che si sono ridotti al lumicino i dati Quindi invito anche i scettici a rivalutare la posizione Perché vaccinarsi significa andare avanti in un momento così complicato E significa essere vicino agli altri Perché vaccinarsi è per gli altri Grazie a tutti Grazie a tutti.